Ricordiamo innanzitutto che Acquadotto Pugliese gestisce 20.000 km di reti urbane, comprese quelle che noi chiamiamo gli impiantini e le diramazioni che vanno dai tronchi fino agli edifici. Quindi veramente una rete capillare, il cuore della distribuzione dell'acqua. Questa rete viene curata, ascoltata tutti i giorni, perché normalmente già facciamo attività di ricerca perdite con i metodi tradizionali, con le nostre squadre specializzate in campo quotidianamente per individuare la presenza di rete e che le perdite vengono poi prontamente risanate, vengono prontamente tappate. Abbiamo già negli anni passati, a partire dal 2009, fatto due grandi progetti di risanamento, quindi sostituzione delle reti e abbiamo cominciato con un'intensa attività di distrettualizzazione delle reti. Un distretto e una porzione circoscritta di rete al cui ingresso sappiamo quanta acqua passa, con che pressione passa. Giusto per esempio, posso dire che nella città di Bari abbiamo 36 distretti idrici in cui conosciamo la quantità di acqua che passa e riusciamo a regolare quella che è la distribuzione ottimale per minimizzare le perdite in rete. Abbiamo adesso questi due grossi progetti, non ci hanno consentito di avere dei modelli idraulici per prevedere e gestire meglio il cammino della risorsa. In più abbiamo in corso di gara un terzo progetto del valore di 80 milioni di euro di risanamento su 21 comuni. Saranno sei lotti, ne abbiamo già banditi, quattro, altri due stanno per essere banditi. E poi c'è il grande progetto di cui si parlerà in dettaglio tra poco, che riguarderà 94 comuni pugliesi. Il sistema di acquedotto è già abbastanza evoluto perché noi seguiamo il cammino dell'acqua dalla grande adduzione, quindi da quando andiamo a prendere l'acqua, dalle sorgenti, dagli invasi, dagli impianti di potabilizzazione, sino alla fine dell'utenza. In questo si inquadra anche il grande progetto di smart metering che si è cominciato ad appaltare, che ci permetterà di fare dei bilanci idrici con maggiore accuratezza, controllando anche quanta acqua effettivamente diamo a ciascun utente. Sarà questo il modo complessivo di capire come e quanto acqua stiamo dando, quanta ne perdiamo, dove la perdiamo, insieme a una serie di sperimentazioni. Il valore aggiunto del nuovo progetto sarà quello di riuscire a disporre delle migliori tecnologie in assoluto per la gestione delle reti, anche col strumento di intelligence on thing o IoT, intelligenza delle cose. Saranno le reti stesse che ci diranno cosa fare e quando fare, addirittura con l'obiettivo di prevenire le rotture in rete.